Il sesto libro dell'Odissea è dedicato all'approdo di Odisseo all'isola dei Feaci, dove verrà accolto e prenderà parte ai banchetti. Come abbiamo visto nel canto precedente, Odisseo giunge con molte difficoltà sull'isola dei Feaci, giacché il mare in tempesta scatenato dall'iracondo poseidone gli impedisce un approdo sereno. Riesce a fatica a salvarsi dai flutti marini e stremato si addormenta in un giaciglio da lui stesso costruito mediante foglie che lo riparino dal freddo e dalle fiere fameliche. Mentre sta dormendo, così si apre il libro sesto, Atena si reca presso le genti dei Feaci. Sicché Odisseo dorme, intanto Atena lavora a suo beneficio. I Feaci vivevano prima nella vasta Iperea vicino ai ciclopi, che sono uomini tracotanti che li depredavano, li superavano in forza. Da lì poi, spiega Omero, li fece partire Nausito, che era simile a un dio, e li stabilì nella scheria, lontano dagli uomini industri, di mura circondò la loro città, fabbricò case e innalzò templi ai numi, dividendo le terre. Da tempo ormai Nausito è sceso nell'Ade e ha preso a regnare sui Feaci Alcino, che ha sapienza degna dei numi. Ed è proprio al palazzo di Alcino che si reca Atena, la dea dagli occhi azzurri, e lo fa per approntare e propiziare il ritorno per Odisseo dal cuore grande. Si muove Atena nel palazzo dei Feaci e si avvicina a Nausicaa, che è la figlia del re Alcino, che è simile agli immortali per aspetto e per bellezza. Si avvicina a lei e assume le sembianze della figlia di Dimante, nocchiero famoso, che l'era coetanea ed era una sua amica. In sostanza ancora una volta vediamo Atena che riesce a cambiare sembiante e ad assumere le fattezze di un'altra persona, mortale in questo caso, in particolare di un'amica coetanea di Nausicaa. E mentre Nausicaa ancora dorme, Atena sotto mentite spoglie si insinua nel suo sonno. E in qualche misura esorta Nausicaa a non tergiversare e a non perder tempo. Hai lasciato Nausicaa le vesti abbandonate, ma le nozze ti si avvicinano, sei nel fiore dell'età, sicché presto dovrai sposarti e dovrai essere pronta per questo lieto evento. Non puoi lasciare le vesti in stato di abbandono, devi andare a lavarle non appena spunterà l'aurora e io verrò ad aiutarti affinché tu abbia pronte le vesti il prima possibile per il lieto evento dello sposalizio. Devi sollecitare il padre glorioso Alcino per prepararti le mule e il carro di modo che a bordo delle mule del carro tu possa recarti al fiume, perché sono molto lontani dalla città i lavatoi. Dopo aver pronunziato in sonno queste parole, Atena occhio azzurro, se ne torna rapida sull'Olimpo. A questo punto troviamo una celere descrizione dell'Olimpo, la sede sempre serena dei numi. È una sede rappresentata come locus amenus per eccellenza, non è squassata dai venti, non è mai bagnata dalla pioggia, non vi cade la neve, sempre si stende l'etere privo di nubi. È un luogo percorso dalla luce ed è lì che i numi sono beati e godono. Ecco che Atena rientra sull'Olimpo dopo aver propiziato la situazione a beneficio del suo protetto Odisseo. Arriva poi l'aurora che sveglia Nausicaa, la quale si stupisce del sogno che ha appena avuto. Si stupisce del sogno appena avuto e si reca di corsa per raccontarlo ai genitori, al padre caro e alla madre. Li trova entrambi in casa, la madre al focolare con le ancelle, che lavora al fuso. Il padre Alcino invece ha la porta che si reca insieme ai nobili capi al consiglio, infatti vi era stato chiamato gli illustri feaci. Subito Nausicaa prende a parlare al padre. Babbo mio, vorrai prepararmi il carro alto, buone ruote, perché le vesti belle mi porti al fiume a lavarle? Mi stanno là tutte sporche. Naturalmente mossa da pudore non dice al padre che desidera lavare le vesti per approntare le floride nozze, allora inventa Nausicaa un espediente. Dice al padre che anche gli altri fratelli potranno avere le loro vesti pulite in questo modo. Cinque tuoi figli ci sono in palazzo, due sono sposi e tre garzoni fiorenti, e vogliono sempre con vesti appena lavate andare alla danza. Ecco, dato che a me sta a cuore che anche i miei fratelli abbiano le vesti pulite, lascia padre che io vada ai lavatoi a lavare le loro vesti e le mie. Il padre acconsente, non ti nego le mule creature, nessun'altra cosa. E dopo aver dato questa risposta alla figlia Nausicaa, il padre Alcino dà l'ordine ai servi, i quali ubbidiscono immediatamente. Tirano fuori il carro con le mule e approntano la spedizione di Nausicaa al fiume dove laverà nei lavatoi le vesti. La madre di Nausicaa a sua volta prepara cibo abbondante e allestisce ogni tipo di pietanza, preparando altresì il vino nell'otre di capra, di modo che Nausicaa possa saziarsi distante da casa. A questo punto Nausicaa balza sul cocchio e parte con le sue ancelle. prende la frusta, le lucide briglie e parte trottando rapida. Giungono allora Nausicaa e le sue ancelle presso il fiume dove sono i lavatoi e a questo punto sciolgono le mule, le staccano dal carro e le lasciano brucare la gramigna. Loro invece prendono nelle loro braccia le vesti e le portano all'acqua per lavarle, le calpestano velocemente e si sfidano anzi a gara. Dopo aver compiuto il lavaggio delle vesti, dopo aver pulito adeguatamente i vestiti, li stendono in riva al mare di modo che il sole possa asciugarle. Si lavano anch'esse Nausicaa e le altre ancelle, si ungono con l'olio che hanno preso da casa e consumano il loro pasto in riva al fiume, aspettando appunto che il sole e il caldo asciughino le vesti. Dopo aver pranzato, Nausicaa e le sue ancelle giocano a palla, gettando via i veli dal capo. Non soltanto giocano a palla ma Nausicaa col suo braccio bianco, tipico di chi non lavorando nei campi non si scotta con il sole, Nausicaa e le sue compagne intonano canti. A questo punto vengono addirittura paragonate alle dè e a Zeus che cantano gioiosi. Quando ormai sono pronte per tornare a casa, hanno già approntato anche le mule, hanno piegato adeguatamente le vesti, a questo punto Atena dagli occhi azzurri interviene nuovamente, fa sì che Odissio si risvegli e veda la giovinetta dagli occhi belli. E questo di modo che ella, prendendo contatto con Odissio, possa condurlo presso la città dei Feaci. Atena fa dunque sì che la palla con la quale giocano Nausicaa e le sue ancelle si spinga più in là con un lancio più lungo del previsto e in questo modo la palla finisce in acqua. A questo punto Nausicaa e le sue ancelle gridano e dinanzi a questo grido si sveglia Odissio luminoso che fino a quel momento aveva dormito nel suo giaciglio ritemprandosi e recuperando le energie perdute. Odissio si sveglia ed è in una situazione inizialmente di preoccupazione. Oimè, di che uomini ancora arrivo alla terra? Forse violenti, selvaggi, senza giustizia? Oppure ospitali, hanno mente pia verso i numi? In sostanza Odissio tali e tante sono le traversie che ha dovuto affrontare che ora, giunto in questa nuova isola, teme per un attimo di dover incontrare di nuovo nemici con i quali combattere. Eppure sente un grido femminio, come di giovinette, di ninfe forse. oppure si tratta di esseri umani parlanti. A questo punto nel dubbio Odissio decide di andare a controllare in prima persona per comprendere cosa realmente stia accadendo. Sbuca quindi da sotto il cespuglio, dal giaciglio in cui riposava e spezza un ramo fronzuto per coprirsi il più possibile le vergogne. Come un leone nutrito sui monti, sicuro della sua forza, che va lento, che va tra il vento e la pioggia, Odissio si muove verso le ragazze. Simile a un leone che, dice il testo, si getta tra vacche, tra pecore, tra cerve selvagge e il ventre lo spinge in cerca di greggi. Così, appunto, Odissio stava per mescolarsi ignudo tra le fanciulle dai riccioli belli, proprio perché era mosso dal bisogno. Ebbene, naturalmente, coperto com'è di salsedine, appare orrendo alle ragazze, che comprensibilmente si mettono a correre, a fuggire qua e là per la spiaggia. Soltanto la figlia di Alcino, Nausicaa, resta immobile. E resta immobile da che Atena le ha infuso coraggio nel cuore. Ha fatto sì che il timore fuggisse dalle membra di Nausicaa. Lei rimane dritta, quindi, aspettando lo straniero che ha dinnanzi. Odissio, a questo punto, vedendo la bella Nausicaa che resta immobile dinnanzi a lui, è attraversato da un dubbio. Se gettarsi alle ginocchia di Nausicaa, afferrandole e pregandola, o se invece rimanere lontano e rivolgere le parole melliflue, affinché ella gli dia di che vestirsi e lo accompagni in città. Di queste due opzioni gli pare migliore la seconda, quella che prevede che Odissio stia lontano e con parole di miele preghi Nausicaa. E così fa. Subito con accorte parole si rivolge a Nausicaa. Io mi tinchino, signora, sei dea o sei mortale? A questo punto Odissio esordisce con una vera e propria captatio benevolenza, rivolgendosi a Nausicaa e dicendole che non riesce a capire se ella sia un essere umano o una divinità. Sembri sicuramente la figlia di Zeus, però sei mortale forse, è difficile capire. Soprattutto non riesce a capire se sia divina o mortale. Ma soprattutto, beatissimo in cuore, senza confronto, chi soverchiando coi doni ti porterà a casa sua. Ecco, non so se tu sia una dea o una mortale, ma una cosa è certa, dice Odissio, beatissimo in cuore sarà l'uomo che ti sposerà. Non ho mai visto cosa simile con gli occhi, né uomo né donna. Mai una bellezza di questo tipo. E poi Odissio, dopo aver sviluppato questa captatio benevolenza e con parole che l'Odissea stessa definisce melliflue, e Odissio è politropos dai molti modi, anche perché tra questi modi vi è la capacità dell'eloquio, la capacità di intessere discorsi perfettamente strutturati che rapiscono il cuore. Bene, a questo punto Odissio spiega chi è e che cosa fa in quel luogo. Io scampai dopo venti giornate dal livido mare, fin qui l'onda sempre ma spinto e le procelle rapaci dall'isola Ogigia. Racconta di come fuggito da Ogigia, l'isola in cui dimorava con Calipso, dopo venti giorni di navigazione, è approdato nell'isola in cui ora si trova. Qui mi ha gettato ora un Dio, certo perché soffra ancora dolori, non credo che finiranno, ma molti ancora vorranno darmene i numi. Ma tu signora abbi pietà. In sostanza invoca Odissio la pietà di Nausicaa chiedendole sostegno. La rocca insegnami e dammi un cencio da mettere addosso, se avevi un cencio da avvolgere i panni venendo. A te tanti doni facciano i numi, quanti in cuore desideri. Marito, casa ti diano e la concordia gloriosa e compagna. Niente è più bello, più prezioso di questo, quando con un'anima sola dirigono la casa all'uomo e la donna. In sostanza Odissio augura a Nausicaa le migliori cose, in cambio chiedendole un vestito per coprirsi e di essere accompagnato nel cuore dell'isola. A questo punto Nausicaa col suo braccio bianco risponde a Odissio. Straniero, tu non sembri un uomo stolto o malvagio, ma Zeus Olimpio lui stesso divide fortuna tra gli uomini buoni e cattivi come vuole ciascuno. Bene, ora che sei giunto nella nostra terra, nella nostra città, non ti mancherà nulla, non ti mancheranno i vestiti né altre cose. E' questo che è giusto che ottenga colui che supplica come stai facendo tu. Ti mostrerò la via della rocca, ti dirò il nome del popolo presso il quale sei giunto. Sono i feaci che abitano in questa terra e io sono la figlia del magnanimo Alcino, che è il sovrano dei feaci. A questo punto, dopo essersi presentate, dopo aver garantito a Odissio che non gli mancherà nulle, che verrà trattato con tutti gli onori che debbono essere tributati agli ospiti, Nausicaa si rivolge alle ancelle dai bei riccioli. Fermatevi, dove fuggite alla vista di un uomo? Forse un nemico credete che sia? Non esiste uomo vivente, ne mai potrà esistere, che arrivi al paese delle genti feace portando guerra, perché noi siamo molto cari agli dèi. Nausicaa rassicura le sue ancelle, colui il quale è qui con noi non è un nemico, la nostra terra non conosce nemici perché noi siamo un popolo caro agli dèi. Quello che abbiamo qui dinnanzi, spiega Nausicaa, è un misero naufrago che è capitato qui per ventura. Di lui dobbiamo prenderci cura, infatti coloro i quali arrivano sulla nostra terra vengono inviati da Zeus, sono ospiti e in quanto tali è giusto tributare loro un dono, per piccolo che sia. Bisogna garantire dunque al nostro ospite cibo e bevande, bisogna lavarlo e farlo stare nelle condizioni migliori. Dopo aver pronunziato queste parole le ancelle obbidiscono a Nausicaa e fanno sedere Odisseo al riparo secondo gli ordini di Nausicaa stessa. Gli danno un vestito, gli danno il limpido olio e lo invitano a farsi lavare nelle correnti del fiume. A questo punto però ancora una volta Odisseo con spirito critico ragiona con la sua testa e respinge garbatamente l'invito. Ancelle state in disparte mentre da solo mi laverò la salsedine dalle spalle con l'olio, mi ungerò tutto, da molto l'olio è lontano dal corpo, davanti a voi non mi laverò, mi vergogno di stare nudo tra fanciulle bei riccioli. A questo punto le fanciulle si allontanano, lo lasciano solo di modo che egli possa lavarsi autonomamente nel fiume. Dopo essersi lavato e unto abbondantemente con l'olio, Odisseo veste gli abbigliamenti che gli sono stati donati dalla giovane vergine e Atena, la figlia di Zeus, interviene ancora una volta a sostegno del suo protetto Odisseo. Interviene rendendolo più robusto e più grande, gli fa scendere folte chiome dal capo simili al fiore del Giacinto, lo rende in sostanza incredibilmente bello e attraente. Da questo punto di vista quando Nausicaa vede di nuovo Odisseo così mutato da Atena, resta sbalordita. Resta sbalordita, l'aveva visto orrendo coperto di salsedine e ignudo e ora lo ritrova a lavaggio compiuto splendido e prestante. Sentite mi ancelle braccio bianco, dice Nausicaa, che dica una cosa, non senza i numi tutti che stanno in Olimpo quest'uomo è venuto tra i feaci divini. Prima mi era sembrato che fosse brutto davvero e ora somiglia ai numi che il cielo ampio possiedono. Oh, se un uomo così potesse chiamarsi mio sposo, abitando fra noi e gli piacesse restare. Ecco, Nausicaa racconta alle ancelle la bellezza dell'uomo che prima sembrava orrendo e che adesso invece appare attraente e vagheggia apertamente la possibilità di sposarlo, vorrebbe apertamente che un uomo così fosse suo sposo. In sostanza Odisseo, che ha da poco scampato le nozze con Calipso, che si era innamorata di lui, adesso riprecipita tra le braccia di una donna che accarezza da subito l'idea di farlo sposo, perché Nausicaa, vedendo cotanta bellezza, non resta insensibile come si è detto, vorrebbe sposarlo e dice subito alle ancelle di dargli da mangiare e da bere di modo che possa saziarsi. A questo punto Odisseo beve e mangia avidamente perché era da molto tempo che non toccava cibo e bevande e intanto Nausicaa altro pensò. Piega le vesti, le pone sopra al bel carro, aggioga le mule e sale. Chiama Odisseo, gli parla, gli dice alzati ospite, andiamo in città che io ti guidi alla casa del mio saggio padre, dove ti dico che vedrai quanti sono tra i feaci i più nobili. Dice appunto di seguirla, lei è già salita sul carro, dice di seguirla, lo accompagnerà dal padre presso il popolo dei feaci. Devi fare così, dato che non mi sembri affatto uno sciocco, esegui quanto ora ti dico. Finché andiamo tra i campi distanti dalla città, tu dietro al carro vieni rapidamente con le ancelle, io ti mostrerò la via. Ma quando poi saremo in prossimità della città, che è cinta da un muro alto, bello, ai cui lati si apre un porto, bene, quando ci avvicineremo tu dovrai seguire ulteriormente i miei consigli. E a questo punto, prima di dispensare ulteriori consigli, Nausicaa fa una breve descrizione della città dei feaci. Vi è un grande muro, vi è un porto, vi è la piazza, vi è una splendida costruzione che è quella della città. Perché i feaci, spiega Nausicaa, vivono di remi e di navigazione. Ai feaci non importa dell'arco e della faretra. Vivono di navi di ritte e di remi, attraversano il mare schiumoso. Ecco, dice Nausicaa, quando arriveremo in questa splendida città, io sappi che non voglio che chiacchierino di me, non voglio che qualcuno sussurri alle mie spalle. Infatti nel popolo vi sono molti sfacciati che se mi vedessero accompagnarmi a te, straniero, subito malignamente penserebbero che io ho trovato lo sposo e che l'ho trovato tra gli stranieri e chissà dove l'ho trovato. In sostanza si comincerebbe a mormorare delle mie possibili nozze e questo io non voglio, questo mi farebbe vergogna, dice testualmente Nausicaa. Del resto io pure un'altra biasimerei che facesse così, che contro il volere del padre suo e della madre si accompagnasse con uomini prima di giungere a pubbliche nozze. Allora, dice Nausicaa, per evitare questa situazione faremo nel modo che segue. Lungo la via troverai un bel bosco d'Atena, un boschetto di pioppi, c'è una polla nel mezzo e intorno vi è un prato. Bene, tu seduto qui aspetterai un poco, mentre noi invece arriveremo nella casa del padre. Dopodiché, trascorso un po' di tempo, quando potrai immaginare che noi siamo arrivati a casa, potrai uscire dal boschetto e domandare a qualcuno che incontrerai lungo la strada la via per raggiungere la casa del magnanimo Alcino. Non è difficile trovarla, anche un bambino potrebbe insegnartela, dice Nausicaa. Del resto il palazzo di mio padre Alcino non è simile a quello degli altri, svetta per grandezze e per beltà. Appena sarai stato accolto nella casa e nel cortile, subito, dice Nausicaa, avvicinati a mia madre. Lei siede al focolare nella luce del fuoco, lavora al fuso, è una meraviglia vederla. Ecco, qui accanto a lei si appoggia al trono del padre che beve il vino seduto e sembra un nume immortale. Bene, passa gli avanti e abbraccia le ginocchia alla madre, che il giorno del ritorno tu veda con rapida gioia. In questo modo ti ingrazierà il padre e la madre e loro si adopereranno per far sì che tu possa tornare a casa. Dopo aver pronunziato queste parole, Nausicaa frusta con la lucida frusta le mule e parte rapidamente. Le mule procedono rapidamente, vanno di buon passo, ma Nausicaa fa in modo che non vadano troppo rapidamente, di modo che Odissio possa seguirle con le ancelle. Intanto il sole si immerse e giunsero al bosco glorioso sacro ad Atena. Lì, come ha detto Nausicaa, si siede Odissio e lascia andare avanti Nausicaa. Intanto Odissio, rimasto ora solo nel boschetto, supplica ancora una volta Atena, la figlia del grande Zeus. Ascolta, creatura di Zeus e Gioco, infaticabile, ora almeno esaudiscimi. Prima non mi volesti ascoltare, Metapino, quando mi perseguitava il glorioso Ennosigeo. Fa che io arrivi gradito ai feaci e che ispiri pietà. In sostanza Odissio chiede ad Atena di aiutarlo in questo contesto, di far sì che il suo arrivo presso i feaci sia accolto bene e che i feaci stessi lo ascoltino e abbiano pietà di lui. Odissio, con una punta di critica verso la divinità, dice ad Atena aiutami in questo caso, che in precedenza non mi hai aiutato, mi hai lasciato in balia di Poseidone ad irato. Ecco, ora invece palla di Atena, aiutami se puoi. Così diceva pregando e Atena ascolta le sue preghiere pur non apparendogli visibile. Ascolta questa volta Atena senza mostrarsi a Odissio. Infatti Atena a riguardo del fratello del padre, cioè di Poseidone, che ancora è orrendamente irato contro Odisseo. E a questo punto Atena sceglie di non intervenire per non interferire con Poseidone, che come sappiamo è la divinità che si oppone ad Atena sotto questo sembiante, perché se Atena assiste sempre puntualmente Odisseo per tutta l'Odissea, Poseidone per parte sua fa di tutto per ostacolarne l'arrivo in patria, scatenandogli puntualmente le tempeste e rallentandone il più possibile la navigazione, rendendola densa di peripezie e di dure prove da affrontare. Ecco, in questo caso Atena per rispetto verso Poseidone, che è pur sempre il fratello di Zeus, quindi del padre di Atena, sceglie di non mostrarsi a Odisseo e di ascoltare semplicemente le sue preghiere. E con Atena che ascolta le preghiere accorate di Odisseo si chiude il libro VI, tutto ambientato, come abbiamo visto, nell'isola dei Feaci, con l'arrivo di Odisseo ormai vicino a casa, come sappiamo. Ma molte prove dovrà ancora narrare Odisseo, quando verrà accolto, come vedremo, dai Feaci. Ciò che è interessante rilevare è che ancora una volta Odisseo ha utilizzato la sua astuzia, la sua riflessività, la sua introspezione, spazio critico dell'uomo occidentale, per affrontare una situazione che richiedeva non certo la forza del braccio propria di un Achille o di una Iace, bensì la forza della ragione, del Logos, quella che più di ogni altro eroe Odisseo, dal multiforme ingegno, rivela di possedere.